40. Macklin aveva sentito urlare nella notte e sapeva che era arrivata l'ora. Uscì dal suo sacco a pelo con cautela per non svegliare Roland o Sheila. Non voleva che nessuno dei due lo accompagnasse. Aveva paura del dolore e non voleva che lo vedessero debole. Il colonnello uscì dalla tenda nel vento che soffiava gelido. Iniziò a dirigersi verso il lago. Tutti intorno a lui tremolavano torce e falò e il vento tirava le bende nero verdastre che pendevano dal moncherino del polso destro di Macklin. Riusciva a sentire l'odore nauseante della sua stessa infezione e per giorni la ferita aveva trassudato un fluido grigio. Mise la mano sinistra sull'elsa del coltello che portava nella cintura dei pantaloni. Avrebbe dovuto riaprire la ferita ed esporre la carne all'agonia guaritrice del grande lago salato. Dietro di lui Roland Croninger si era messo a sedere non appena Macklin aveva lasciato la tenda. Teneva la 45 stretta in mano. Dormiva sempre con la pistola e la teneva anche quando Sheila gli permetteva di farle la cosa sporca. Gli piaceva anche guardare quando la donna lo faceva con il re. A loro volta davano a Sheila da mangiare e la proteggevano dagli altri uomini. Stavano diventando un terzetto molto unito, ma sapeva dove stava andando il re adesso e perché. La ferita del re puzzava molto di recente. Presto ci sarebbe stato un altro urlo nella notte, come gli altri che avevano sentito quando l'accampamento diventava silenzioso. Lui era un cavaliere del re e pensava che doveva trovarsi al suo fianco per aiutarlo. Ma questa era qualcosa che lui voleva fare da solo. Roland tornò a sdraiarsi con la pistola appoggiata sul petto. Sheila abborbottò qualcosa e trassalì nel sonno. Roland tese l'orecchio per sentire l'urlo di rinascita del suo sovrano. Macklin superò altre tende, ripari di scatole di cartone e automobili che ospitavano intere famiglie. L'odore del lago salato gli raggiunse le narici e gli promise un dolore e una purificazione oltre qualsiasi cosa Macklin avesse mai provato. Il terreno iniziò a declinare lentamente verso il bordo dell'acqua e per terra intorno a lui c'erano abiti ricoperti di sangue, stracci, stampelle e bende strappate e gettate via da altri supplici prima di lui. Ricordò le urla che aveva sentito di notte e i suoi nervi esitarono. Si fermò a meno di sei metri dal punto in cui il lago si riversava sulla spiaggia pietrosa. La sua mano fantasma prudeva e il moncherino pulsava doloroso al ritmo con il suo battito. Non ce la faccio, pensò. Oddio caro, non posso. Disciplina e controllo, signore, disse una voce sulla sua destra. C'era il soldato ombra lì in piedi, bianco, con le mani ossute sui fianchi e il volto lunare striato di pittura da commando sotto il bordo dell'elmetto. «Perdi queste due cose e cosa ti resta?» Macklin non rispose. Il rumore dell'acqua sulla riva era sia seducente che terrificante. «I tuoi nervi sono andati a farsi un giro, Jimmy Boy», chiese il soldato ombra e Macklin pensò che la sua voce assomigliava a quella di suo padre. Aveva la stessa nota di disgusto denigrante. «Beh, non sono sorpreso», continuò il soldato ombra. «Di sicuro hai incasinato le cose alla grande, Earth House, vero? Oh, hai davvero fatto un gran bel lavoro?» «No», Macklin scosse la testa. «Non è stata colpa mia». Il soldato ombra rise piano. «Tu lo sapevi, Jimmy Boy. Tu sapevi che c'era qualcosa che non andava in quel posto e hai continuato ad ammassare quei falliti perché sentivi l'odore dei verdoni degli osli, vero, cazzo? Hai ucciso tutti quei poveri idioti. Li hai seppelliti sotto qualche centinaio di tonnellate di roccia e ti sei salvato il culo, vero?» Adesso Macklin pensava che fosse davvero la voce di suo padre e pensò che anche il volto del soldato ombra iniziasse ad assomigliare a quello in carne e con il naso aquilino del suo padre ormai defunto da tempo. «Dovevo salvare me stesso», rispose il colonnello con voce debole. «Che avrei dovuto fare? Sdraiarmi a terra e morire?» «Merda! Quel ragazzino ha più cervello e fegato di te, Jimmy Boy. È lui che ti ha tirato fuori, ha continuato a farti muovere e ha trovato il cibo per tenere vivo il tuo culo. Se non fosse stato per quel ragazzino, tu non saresti qui in questo momento a tremare nelle tue scarpe perché hai paura di un po' di dolore. Quel ragazzino conosce il significato di disciplina e controllo, Jimmy Boy. Tu sei solo un vecchio monco stanco che dovrebbe entrare in quel lago, mettere la testa sott'acqua e fare un veloce respiro come hanno fatto loro». Il soldato ombra annui verso il lago, in cui i cadaveri gonfi dei suicidi galleggiavano nell'acqua salata. «Pensavi che essere il grande capo di Earth House fosse il fondo del barile. Ma è questo il fondo, Jimmy Boy. Proprio qui. Non vali un cazzo. E hai perso il coraggio?» «No, non l'ho perso», disse Macklin. «Io non l'ho perso.» Una mano indicò il grande lago salato. «Provalo.» Roland sentì qualcuno all'esterno della tenda. Si mise a sedere, togliendo la sicura all'automatica. A volte gli uomini si avvicinavano di notte per annusare Sheila e dovevano essere scacciati. Una torcia gli illuminò il volto e lui puntò la pistola contro la figura che la reggeva. «Calmati», disse l'uomo. «Non voglio problemi.» Sheila emise un grido e si raddrizzò di colpo con gli occhi spalancati. Si allontanò dall'uomo con la luce. Stava avendo di nuovo quell'incubo in cui Rudy strisciava fino alla tenda con il volto e sangue e la ferita alla gola che si apriva come un'orrenda bocca e dalle sue labbra viola usciva una voce tremante che chiedeva «hai ucciso qualche neonato di recente, Sheila tesoro?» «Avrai problemi se non te ne vai.» Gli occhi di Roland erano feroci dietro gli occhialini. Teneva la pistola saldamente, con il dito appoggiato sul grilletto. «Sono io, Giad Lori», diresse la torcia sul proprio volto. «Vedi? Che vuoi?» Lori puntò la luce sul sacco a pelo vuoto di Macklin. «Dov'è andato il colonnello?» «Fuori. Cosa vuoi?» «Il signor Kempka vuole parlarti.» «Di cosa?» «Ho consegnato la razione la scorsa notte.» «Vuole parlare», disse Lori. «Dice che ha un'offerta per te.» «Un'offerta? Che tipo di offerta?» «Una proposta d'affari.» «Non conosco i dettagli. Dovrai incontrarlo.» «Io non devo fare nulla», gli disse Roland. «E qualunque cosa sia può aspettare fino a domani.» «Il signor Kempka, disse Lori con fermezza, vuole occuparsi degli affari proprio ora.» «Non è importante che ci sia Macklin. Lui vuole fare affari con te. E sa che tu abbia una buona testa sulle spalle. Quindi verrai o no?» «No.» «Lori si strinse nelle spalle.» «Va bene, allora immagino che gli dovrò dire che non sei interessato.» Iniziò a uscire dalla tenda e poi si fermò. «Ah sì, voleva che ti dessi questo.» E gettò una scatola di barrette al cioccolato per terra, davanti a Roland. «Ha un sacco di roba del genere nella roulotte.» «Gesù!» La mano di Sheila si infilò di scatto nella scatola e tirò fuori alcune barrette. «Dio, è passato un sacco di tempo da quando ho mangiato una di queste.» «Gli dirò quello che hai detto.» Disse Lori a Roland. E di nuovo iniziò a lasciare la tenda. «Aspetta un attimo!» esclamò il ragazzo. «Di che genere di affari vuole parlare.» «Come ho detto, deve incontrare lui per saperlo.» Roland esitò, ma pensò che qualsiasi cosa fosse non poteva fare male. «Non vado da nessuna parte senza la pistola.» Disse. «Certo, perché no?» Roland uscì dal suo sacco a pelo e si alzò. Sheila, che stava già per terminare una delle barrette di cioccolato, disse «Ehi, aspetta un attimo! e io?» «Il signor Kempka vuole solo il ragazzo.» «Baciami il culo! Non resterò qua fuori da sola!» Lori si tolse dalla spalla la cinghia del fucile e lo porse a lei. «Tieni, ma non farti saltare la testa per sbaglio.» Lei lo prese, rendendosi conto troppo tardi che era la stessa arma che aveva usato per uccidere il neonato. Comunque, non avrebbe rischiato di essere lasciata là fuori da sola senza un'arma. Poi tornò a dedicarsi alla scatola di barrette di cioccolato. E Roland seguì già Lori verso la roulotte, dove la luce gialla delle lampade usciva dai listelli delle tendine chiuse delle finestre. In riva al lago, Macklin si tolse il cappotto nero e la maglietta lurida e macchiata di sangue che indossava. Poi iniziò a svolgere le vende dal moncherino del suo polso, mentre il soldato Ombra guardava in silenzio. Quando finì, le lasciò cadere a terra. La ferita non era bella da guardare e il soldato Ombra fischiò quando la vide. «Disciplina e controllo, signore», disse il soldato Ombra. «Sono queste le cose che fanno un uomo.» Erano le esatte parole del padre di Macklin. Era cresciuto sentendole martellare nella sua testa. Le aveva trasformate in un motto secondo cui vivere. Adesso, però, costringersi a entrare in quell'acqua salata e a fare quello che doveva fare avrebbe richiesto ogni grammo di disciplina e controllo che poteva evocare. Il soldato Ombra disse con voce cantilenante «Hop, due, tre e quattro! Hop, due, tre e quattro! Datti una mossa, signore!» «Oh, Gesù!», sospirò Macklin. Restò con gli occhi serrati per alcuni secondi. Il suo intero corpo tremò per il vento freddo e per la sua paura. Poi estrasse il coltello dalla cintura e camminò verso l'acqua che sciabordava sommessa. «Siediti, Roland», disse l'uomo grasso quando l'ori scortò il ragazzo nella roulotte. Davanti al tavolo a cui sedeva Kempka era stata portata una sedia. «Chiudi la porta!» L'ori ubbidì e Roland si sedette. Tenne la mano sulla pistola che aveva messo in grembo. Il volto di Kempka si aprì in un sorriso. «Vorresti qualcosa da bere? Pepsi? Coca-Cola? Seven Up? O qualcosa di più forte?» Rise con la sua voce acuta e stridula e i suoi molti menti ondeggiarono. «Tu sei Maggiorenne, è vero?» «Prenderò una Pepsi». «Ah, bene. Giad, ci porti due Pepsi, per favore?» Lori si alzò e andò in un'altra stanza, che Roland dedusse doveva essere una cucina. «Perché volevi vedermi?» chiese Roland. «Un affare. Una proposta». Kempka si appoggiò all'indietro e la sua sedia scricchiolò come fuochi d'artificio che scoppiano. Indossava una maglietta sportiva dal colletto aperto che mostrava degli ispi di peli castani sul suo petto flaccido e la sua pancia sbordava oltre la cintura dei suoi pantaloni di poliestere verde lime. I capelli di Kempka erano stati impomatati e pettinati di recente e l'interno della roulotte odorava di acqua di colonia scadente e dolce. «Tu mi sembri un giovane ragazzo molto intelligente, Roland. Un giovane uomo, dovrei dire». Sorrise. «Ho capito subito che sei dotato di intelligenza e anche di fuoco». «Oh sì, mi piacciono i giovani uomini che hanno il fuoco». diede un'occhiata alla pistola in mano a Roland. «Puoi metterla via quella, sai? Voglio essere tuo amico». «È una bella cosa». Roland tenne la pistola puntata nella direzione di Freddy Kempka. sulla parete alle spalle dell'uomo grasso i fucili e le pistole appesi ai loro ganci riflettevano la sinistra luce gialla delle lampade. «Va bene», disse Kempka stringendosi nelle spalle. «Possiamo parlare comunque. Parlami di te. Di dove sei? Che è accaduto ai tuoi genitori?» «I miei genitori», pensò Roland. «Cos'è accaduto a loro?» Ricordava che erano andati tutti insieme a Earth House. Ricordò il terremoto nella caffetteria, ma tutto il resto era ancora folle e scollegato. Non riusciva nemmeno a ricordare con esattezza che aspetto avessero, sua madre e suo padre. Pensava che fossero morti nella caffetteria. Sì, entrambi erano stati sepolti sotto la roccia. Lui era un cavaliere del re, ora. E non si tornava indietro. «Quello non è importante», decise di dire. «È di questo che volevi parlare?» «No, non lo è. Volevo… Ah, ecco il nostro rinfresco!» Lory rientrò con le Pepsi in due bicchieri di plastica. Ne mise uno davanti a Kempka e diede l'altro a Roland. Lory iniziò a muoversi per andare alle spalle del ragazzo. «Ma questo», disse Brusco, «stai davanti a me mentre sono qua dentro!» E l'uomo si fermò. Sorrise, sollevò le mani in un gesto di pace e si sedette su una pila di scatole vicina alla parete. «Come ho detto, mi piacciono i giovani uomini con il fuoco!» Kempka beve un sorso della sua bevanda. Era da molto tempo che Roland non assaggiava più una bibita gassata e ne mandò giù quasi mezzo bicchiere senza fermarsi. La bevanda aveva perso la maggior parte della sua effervescenza, ma era lo stesso una delle cose migliori che avesse mai assaggiato. «Quindi di che si tratta?» chiese Roland. «Ha a che fare con le droghe?» «No, non c'entrano niente.» Kempka sorrise di nuovo con un sorriso fugace. «Voglio saperne di più sul colonnello Maklin.» Si sporse in avanti e la sedia cigolò. Appoggiò gli avambracci sul tavolo e intrecciò le sue dita grasse. «Voglio sapere che cosa ti offre Maklin che io non posso offrirti.» «Cosa?» «Guardati intorno», disse l'uomo. «Guarda cosa qui? Cibo, bevande, dolci, armi, munizioni.» «E potere, Roland.» «E Maklin cos'ha? Una piccola tenda malmessa. E sai una cosa? Quella è tutto ciò che avrà mai.» «Io comando questa comunità, Roland. Immagino si possa dire che io sono la legge, il sindaco, il giudice e la giuria tutto in uno.» «Giusto?» diede una rapida occhiata a Lori e l'altro uomo disse «Giusto.» Con la convinzione del pupazzo di un ventriloquo. «Quindi? Cosa fa Maklin per te, Roland?» Kempka sollevò le sopracciglia. «O dovrai chiederti cosa fai tu per lui?» Roland quasi disse all'uomo grasso che Maklin era il re. Privato adesso della corona e del regno, ma destinato a tornare al potere un giorno e che aveva fatto giuramento come suo cavaliere. Ma pensò che Kempka avesse l'intelligenza di un insetto e che non avrebbe capito lo scopo più grande del gioco. Per cui disse «Viaggiamo insieme.» «E dove stai andando? Verso la stessa discarica che vuole raggiungere Maklin? No, credo tu sia più furbo di così.» «Che vuoi dire?» «Voglio dire che io ho una roulotte grande e comoda. Roland, ho un vero letto.» Annui verso una porta chiusa. «È proprio là. Ti piacerebbe vederlo?» Di colpo Roland si rese conto di quale fosse l'intenzione di Freddy Kempka. «No», disse con le viscere che si contrassero. «Non mi piacerebbe.» «Il tuo amico non può offrirti quello che posso offrirti io, Roland», disse l'uomo con una voce di seta. «Lui non ha nessun potere, mentre io ce l'ho tutto. Pensi che vi abbia lasciati entrare solo per le droghe.» «No, io voglio te, Roland. Io ti voglio qui con me.» Roland scosse la testa. Sembrava che davanti ai suoi occhi volteggiassero delle macchie nere e si sentiva la testa pesante, come se non riuscisse più a tenerla in equilibrio sul collo. «Scoprirai che hai il potere a governare questo mondo?» La voce di Kempka sembrò al ragazzo una registrazione riprodotta a velocità troppo alta. «È l'unica cosa che valga qualcosa ormai, non la bellizza, non l'amore, niente tranne il potere, e l'uomo che lo detiene può prendersi tutto quello che vuole.» «Non me», disse Roland. Le parole sembravano biglie che gli rotolavano sulla lingua. Pensò di essere sul punto di vomitare, e nelle gambe aveva un forte formicolio. La luce della lampada gli feriva gli occhi, e quando sbatté le palpebre, dovette sforzarsi per risollevarle. Guardò nel bicchiere di plastica che aveva in mano, e riuscì a vedere delle cose granulose galleggiare sul fondo. Tentò di alzarsi, ma le sue gambe cedettero, e cadde in ginocchio sul pavimento. Qualcuno si stava chinando su di lui, e sentì che gli toglievano la 45 dalle mani inerti. Troppo tardi, tentò di afferrarla, ma Lori stava ghignando, e si stava allontanando dalla sua portata. «Ho trovato un buon modo per impiegare quelle droghe che mi hai portato.» Adesso la voce di Kempka era lenta e distorta, come se farfugliasse sott'acqua. «Ho frantumato un po' di quelle pillole e ho creato una piccola miscela. Spero che ti godrai il viaggio.» E l'uomo grasso iniziò pesantemente ad alzarsi dalla sedia e ad attraversare la stanza, verso Roland Kroninger. Mentre Lori andò fuori per fumare una sigaretta. Roland tremava, anche se il suo volto si stava coprendo di sudore, e si allontanò dall'uomo strisciando su mani e ginocchia. Il suo cervello stava facendo delle giravolte, ogni cosa saltava, accelerava e poi rallentava. L'intera roulotte ondeggiò quando Kempka si diresse alla porta e chiuse i catenacci. Roland si strinse in un angolo, come un animale intrappolato, e quando tentò di gridare per chiamare il re, la sua stessa voce gli fece quasi esplodere i timpani. «Adesso noi due ci conosceremo un po' meglio, giusto?» disse Kempka. Macklin era in piedi nell'acqua fredda che gli arrivava a metà delle cosce, con il vento che gli sbatteva in faccia e proseguiva fischiando verso l'accampamento. Aveva prurito all'inguine e la sua mano stringeva il coltello così forte che le sue nocche erano diventate bianche come ossa. Guardò la ferita infetta e vide il rigonfiamento scuro che doveva incidere con la punta scintillante del coltello. «Oddio», pensò. «Dio caro, aiutami. Disciplina e controllo». Il soldato Ombra era alle sue spalle. «Sono queste le cose che fanno un uomo, Jimmy Boy?» «La voce di mio padre», pensò Macklin. «Che Dio benedica il caro vecchio papà e spero che i vermi gli abbiano ripulito le ossa». «Fallo», ordinò il soldato Ombra. Macklin sollevò il coltello, prese la mira, inspirò profondamente l'aria gelida e abbassò la punta della lama giù, sempre più giù, nel rigonfiamento infetto. Il dolore era così feroce, così atroce, così divorante da essere quasi... piacevole. Macklin gettò la testa all'indietro e urlò. E mentre urlava affondava la lama più in profondità nell'infezione, ancora più in profondità. Sul volto gli scorrevano le lacrime, e lui bruciava di un fuoco, che era tra il dolore e il piacere. Sentì il suo braccio destro alleggerirsi, mentre l'infezione ne fuoriusciva. E mentre il suo urlo risalì nella notte, dove altre urla erano andate prima del suo, Macklin si gettò in avanti nell'acqua salata e immerse la ferita. L'uomo grasso si fermò a poca distanza da Roland e inclinò la testa verso la porta. Il volto di Kempka era arrossato e gli occhi erano scintillanti. L'urlo stava svanendo. «Ascolta questa musica», disse. «Quelo è il suono di qualcuno che rinasce». Iniziò a slacciarsi la cintura e la tirò attraverso i numerosi passanti intorno alla sua enorme vita. Le immagini che attraversavano la testa di Roland erano un miscuglio di casa di divertimenti e casa dell'orrore. Nella sua mente stava colpendo il polso del braccio destro del re, e quando la lama tagliò la mano, uno zampillo di fiori rosso sangue esplose dalla ferita. Un coro di cadaveri maciullati con cilindro e smoking avanzava ballando lungo il corridoio franato di Earth House. Lui e il re stavano camminando su un'autostrada sotto un cupo cielo scarlato. Gli alberi erano fatti di ossa, i laghi erano di sangue e resti semi decomposti di esseri umani sfrecciavano loro accanto in auto distrutte e camion con rimorchi. Lui si trovava in cima a una montagna, mentre le nuvole grigie ribollivano sopra la sua testa. In basso degli eserciti combattevano con coltelli, pietre e bottiglie rotte. Una mano fredda gli toccò la spalla e una voce sussurrò «Può essere tutto tuo, Sir Roland». Aveva paura di girare la testa per guardare la cosa che si trovava alle sue spalle, ma doveva saperlo. Il potere della terribile allucinazione lo costrinse a girare la testa e si ritrovò a guardare in un paio di occhi coperti da occhialini militari. La carne di quel volto era ricoperta da escrescenze marroni e lebrose, le labbra erano quasi consumate e rivelavano denti sformati, simili a zanne. Il naso era piatto e le narici larghe e devastate. La faccia era la sua, ma distorta e orrenda, ed emanava malvagità e sete di sangue. E da quella faccia, la sua stessa voce sussurrò «Può essere tutto tuo, Sir Roland, e anche mio». Torreggiando sul ragazzo, Freddy Kempca gettò a terra la cintura e iniziò a sfilarsi i pantaloni di poliestere. Il suo respiro sembrava il rombo di una fornace. Roland sbatte le palpebre e guardò l'uomo grasso. Le visioni delle allucinazioni continuavano a vorticare follemente, ma lui riusciva ancora a sentire il sussurro della cosa. Stava tremando e non riusciva a fermarsi. Un'altra visione prese forma nella sua mente e lui era a terra e tremava, mentre Mike Armbruster torreggiava su di lui pronto per ridurlo a una poltiglia sanguinosa, mentre gli altri studenti e giocatori di football gridavano e schernivano. Vide il ghigno distorto di Mike Armbruster e Roland sentì un impennata di odio maniacale, più potente di qualsiasi cosa avesse mai provato. Mike Armbruster lo aveva già battuto una volta, lo aveva preso a calci e gli aveva sputato addosso mentre lui piangeva nella polvere. E adesso voleva rifare tutto un'altra volta. Ma Roland sapeva che adesso era molto diverso. Era molto più forte e astuto di quella femminuccia rammollita che aveva permesso che lo si malmenasse fino a farsela addosso. Lui era un cavaliere del re adesso e aveva visto le profondità dell'inferno. Stava per mostrare a Mike Armbruster come si vendica un cavaliere del re. Kempka aveva estratto una gamba dai pantaloni. Indossava dei boxer di seta rossi. Il ragazzo lo stava fissando dal basso, con gli occhi sottili dietro quei dannati occhialini, e adesso stava iniziando a fare un suono profondo e animalesco con la gola, un incrocio tra un ringhio e un gemito spettrale. «Smettilo!» gli disse Kempka. Quel rumore lo spaventava. Il ragazzo non smise e quel terribile suono stava diventando più forte. «Smettilo, piccolo bastardo!» vide la faccia del ragazzo cambiare, trasformarsi in una maschera di odio totale e brutale. E quella vista terrorizzò Freddy Kempka. Si rese conto che le droghe che alteravano la mente stavano facendo a Roland Kroninger qualcosa che lui non aveva previsto. «Smettila!» gridò e sollevò la mano per schiaffeggiare il ragazzo. Roland scattò in avanti e, come una riete, la sua testa si abbatté sulla pancia sporgente di Kempka. L'uomo grasso gridò e cadde all'indietro agitando le braccia. La roulotte ondeggiò avanti e indietro e, prima che Kempka potesse riprendersi, Roland lo colpì di nuovo con una forza che lo mandò a terra. Poi il ragazzo si avventò su di lui, colpendolo con pugni e calci e morsi. Kempka gridò «Lory, aiutami!» ma, mentre lo diceva, ricordò di aver chiuso i due chiavistelli della porta per impedire al ragazzo di fuggire. Due dita si infilarono nel suo occhio sinistro e, quasi, lo strapparono dall'orbita. Un pugno si abbatté sul suo naso e la testa di Roland scattò in avanti, dandogli una testata feroce che colpì l'uomo proprio sulla bocca. Gli spaccò le labbra e gli fece arrivare in gola due dei denti frontali. «Aiuta!» gridò con la bocca piena di sangue. Kempka colpì Roland agitando un braccio e se lo tolse di dosso. Poi si girò sulla pancia e iniziò a strisciare verso la porta chiusa a chiave. «Aiutami! Lori!» gridò con le labbra spaccate. Qualcosa si avvolse intorno al collo di Kempka e iniziò a stringere, trattenendo il sangue nella testa dell'uomo e facendo diventare la sua faccia rossa come un pomodoro troppo maturo. In preda al dolore, si rese conto che il ragazzo impazzito lo stava strangolando con la sua stessa cintura. Roland cavalcò la schiena di Kempka come Akab cavalcò quella della balena bianca. L'uomo tentava di allentare la cintura. Il sangue gli pulsava in testa con una forza che temeva gli avrebbe fatto schizzare gli occhi dalle orbite. Si sentiva un martellare sulla porta e la voce di Lori gridò «Signor Kempka, che succede?» L'uomo grasso si impennò, contorse il suo corpo tremante e scagliò Roland contro la parete, ma il ragazzo resistette. I polmoni di Kempka si sforzavano di respirare e lanciò di nuovo il corpo di lato. Questa volta sentì l'urlo di dolore del ragazzo e la cintura si allentò. L'uomo squittiva come un maiale ferito, strisciando freneticamente verso la porta. Alzò la mano per aprire uno dei chiavistelli e una sedia si abbatté sulla sua schiena, spaccandosi. e facendogli risalire un dolore atroce nella spina dorsale. Poi il ragazzo iniziò a colpirlo con una gamba della sedia sulla testa e in faccia, e Kempka urlò «E' impazzita! E' impazzita!» Lori colpiva la porta. «Mi faccio entrare!» Kempka ricevette un colpo storbente sulla fronte, sentì il sangue scorrergli sul volto e cercò di colpire Roland alla cieca. Il suo pugno sinistro colpì il ragazzo e lo sentì esalare tutto il fiato. Roland cadde in ginocchio. Kempka si tolse il sangue dagli occhi, alzò la mano e tentò di spostare di lato la barra del chiavistello. Aveva del sangue sulle dita e non riuscì ad avere una buona presa. Lori stava battendo sulla porta tentando di forzarla. «E' impazzito!» piagnucolò Kempka. «Sta cercando di uccidermi!» «Ei, stronzo idiota!» rinduò il ragazzo alle sue spalle. Kempka si voltò e fregnò di terrore. Roland aveva afferrato una delle lampade al cherosene che illuminavano la roulotte. In faccia aveva un sorriso folle e aveva gli occhialini macchiati di sangue. «Ecco qua, Mike!» gridò e lo colpì con la lampada. Impattò sul cranio dell'uomo grasso e andò in frantumi, inzuppandogli la faccia e il petto di cherosene che prese fuoco, incendiando la sua barba, i capelli e la parte frontale della sua camicia. «Mi sta bruciando! Mi sta bruciando!» squitti Kempka rotolando e agitandosi. La porta tremò quando Lori la prese a calci, ma la gente della Airstream l'aveva costruita perché fosse resistente. Mentre Kempka si agitava orizzontalmente e Lori prendeva a calci la porta, Roland rivolse la sua attenzione agli scaffali con i fucili e alle pistole attaccate ai loro ganci. Non aveva ancora finito a dimostrare a Mike Armbruster come un cavaliere del re si vendica. «Oh no! Non ancora!» Agirò il tavolo e scelse una bella 38 Special con il manico di Madre Perla. Aprì il cilindro e vide che c'erano tre proiettili all'interno. Sorrise. Sul pavimento l'uomo grasso era riuscito a spegnere il fuoco con le mani. La sua faccia era un ammasso di carne ustionata, peli bruciati e vesciche e i suoi occhi erano così gonfi che riusciva a vedere solo a stento. Poteva vedere abbastanza bene il ragazzo che si avvicinava con la pistola in mano. Il ragazzo stava sorridendo e Kempka aprì la bocca per urlare, ma ne uscì solo un gracidio. Roland si inginocchiò davanti a lui. La faccia del ragazzo era coperta di sudore e sulla tempia si vedeva pulsare la vena. Armò la 38 e tenne la canna a dieci centimetri dal cranio di Kempka. «Ti prego!» implorò l'uomo. «Ti prego, Roland!» «Non...» Il sorriso di Roland era inflessibile e gli occhi enormi dietro agli occhialini. Disse «Sir Roland!» E non dimenticarlo. Lory sentì uno sparo. Poi, circa dieci secondi dopo, si udì un altro sparo. Strinse nella destra l'automatica del ragazzo e si scagliò con la spalla contro la porta. Continuava a non cedere. La prese di nuovo a calci, ma quella dannata cosa era ostinata. Era sul punto di sparare attraverso la porta quando sentì i chiavistelli spostarsi. La porta si aprì. Sulla soglia c'era il ragazzo, con una 38 in mano e schizzi di sangue sulla faccia e sui capelli. Stava sorridendo e disse con voce rapida, eccitata e drogata «È finita! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Gli ho mostrato come si vendica un cavaliere del re! Ce l'ho fatta!» Lory sollevò l'automatica per sparare al ragazzo, ma la doppia canna di un fucile gli toccò la nuca. «Ah ah», disse Scilla Fontana. Aveva sentito il chiasso ed era venuta a vedere cosa stesse succedendo e anche altre persone stavano arrivando al buio, portando lampade e torce. «Gettala a terra o ci finirai tu!» L'automatica colpì il suolo. «Non uccidermi, frignollori. Va bene. Ho solo lavorato per il signor Kempka. Tutto qua. Ho solo fatto quello che diceva lui. Va bene?» «Vuoi che l'uccida?» chiese Scilla a Roland. Il ragazzo si limitò a fissarla e a sorridere. «È sbronzo», pensò. «È ubriaco o fatto?» «Ascolta, non mi interessa quello che il ragazzo ha fatto a Kempka!» La voce di Lori si ruppe. «Non era nulla per me. Io guidavo soltanto per lui. Ho solo seguito i suoi ordini. Ascolta, posso fare lo stesso per voi, se vuoi. Per te, il ragazzo è il colonnello Macklin. Posso occuparmi delle cose per voi e tenere in riga tutti gli altri qua intorno? Farò tutto quello che mi direte. Voi dite salta e io chiederò quanto in alto. Gliel'ho fatta vedere, assolutamente!» Continuò a blaterare Roland, iniziando a ondeggiare in piedi. «Gliel'ho fatta vedere!» «Ascolta, tu, il ragazzo e il colonnello Macklin, c'ete i grandi capi da queste parti, da quello che vedo», disse Lori a Scilla. «Voglio dire, se Kempka è morto...» «Allora andiamo a dare un'occhiata.» La donna gli spinse la nuca con il fucile e Lori passò accanto a Roland, entrando nella roulotte. Trovarono l'uomo grasso accasciato in un mucchio insanguinato, contro una parete. Nell'aria c'era la puzza di pelle bruciata. A Kempka avevano sparato nel cranio e nel cuore, da distanza ravvicinata. «Tutte le armi, il cibo e il resto sono vostri adesso», disse Lori. «Io faccio solo quello che mi si dice di fare. Voi ditemi quello che volete che faccia e io lo farò. Giuro su Dio.» «Allora tira quella grassa carcassa fuori dalla roulotte.» Spaventata, Scilla guardò verso la porta. C'era Macklin, appoggiato al telaio, senza maglietta e gocciolante. Aveva il cappotto nero avvolto intorno alle spalle e il moncherino del braccio destro nascosto tra le sue pieghe. La sua faccia era pallida e gli occhi affossati in orbite viola. Roland era in piedi accanto a lui, vacillando e ondeggiando, sul punto di crollare. «Non so che diavolo sia accaduto qui», disse Macklin, parlando con sforzo. «Ma se è tutto nostro adesso, ci trasferiamo nella roulotte. Porta quella cosa fuori da qui.» Lori sembrò colpito. «Da solo? Voglio unisciti a lui.» Lori si mise al lavoro. «Ripulisci questo schifo quando avrai finito», gli disse Macklin, dirigendosi verso la rastrelliera di fucili e pistole. «Dio che arsenale», pensò. Non aveva idea di cosa fosse accaduto là dentro, ma Kempka era morto e, in qualche modo, loro erano al comando. La roulotte era loro. Il cibo, l'acqua, l'arsenale, l'intero accampamento era loro. Era stordito, ancora esausto per il dolore che aveva sopportato, ma in qualche modo si sentiva anche più forte, in qualche modo più pulito. Si sentiva di nuovo un uomo, invece che un cane lamentoso e spaventato. Il colonnello James P. Macklin era rinato. Lori aveva quasi trascinato il corpo fino alla porta. «Non ce la faccio!», protestò tentando di riprendere fiato. «È troppo pesante!». Macklin si voltò di scatto e camminò verso Lori, fermandosi solo quando i loro volti distarono poco più di dieci centimetri. Gli occhi del colonnello erano iniettati di sangue e fissavano quelli dell'altro uomo con intensità furiosa. «Ascoltami, verme», disse Macklin con tono minaccioso. Lori ascoltò. «Comando io qui adesso. Io. Quello che dico io si fa, senza domande. Ho intenzione di insegnarti disciplina e controllo, signore. Ho intenzione di insegnare a tutti disciplina e controllo. Non ci saranno domande né esitazioni quando do un ordine. Oppure ci saranno esecuzioni, esecuzioni pubbliche. Vuoi essere il primo?». «No», disse Lori, con una voce bassa e spaventata. «No cosa?». «No, signore», fu la risposta. «Bene. Ma spargi la voce, Lori. Ho intenzione di organizzare questa gente e di far loro muovere il culo. Se a qualcuno non piace il mio modo di fare le cose, se ne può andare». «Organizzare? Organizzare per cosa?». «Pensi che non arriverà un momento in cui dovremo combattere per tenerci quello che abbiamo?». «Signore, ci saranno moltissime occasioni in cui dovremo combattere, se non per tenerci quello che abbiamo, allora per prendere quello che vogliamo». «Non siamo un fottuto esercito», disse Lori. «Lo sarete», promise Macklin, e indicò l'arsenale. «Imparerai a esserlo, signore. E così anche tutti gli altri. E ora porta fuori da qui quel pezzo di merda. Caporale». «Eh?». «Caporale, Lori. È il tuo nuovo rango. E vivrai nella tenda là fuori. Questa roulotte per il personale del quartier generale». «Oh, Cristo», pensò Lori. «Questo tizio è andato fuori di testa». Ma in un certo qual modo gli piaceva l'idea di essere un caporale. Suonava importante. Diede le spalle al colonnello e ricominciò a muovere il cadavere di Kempka. Lo colpì un pensiero divertente e fece quasi una risatina, ma la trattenne. «Il re è morto», pensò. «Lunga vita al re». Tirò il corpo giù dai gradini e la porta della roulotte si chiuse. Vide diversi uomini in piedi lì intorno, attratti da tutta la confusione, e iniziò ad abbaiare l'ordine di prendere il corpo di Freddy Kempka e di portarlo al margine della zona delle verrucche di terra. Gli ubbidirono come automi. E Giad Lori pensò che alla fine gli sarebbe potuto piacere giocare ai soldatini.